Giovedì di mercato in piazza dei signori, polizia locale e volontari con gli occhi aperti per il rispetto delle misure di sicurezza. Ma dopo il confronto col prefetto, a Vicenza ora verranno intensificati i controlli, soprattutto tra le 15 e le 18, prima della chiusura dei bar. Insomma, chi non vuole rinunciare allo sprizza con gli amici, lo sposta al pomeriggio. Magari dalle 5 in poi tutti vogliono l'aperitivo, tutti vogliono, però noi facciamo fatica perché noi vogliamo farli sedere, mantenere le distanze, perché questo ci dà sicurezza a noi e al cliente. Tante volte il cliente non accetta questa cosa. In tanti posti nelle piazzette so che hanno anticipato anche alle tre gli aperitivi. In sostanza la gente anticipa, soprattutto nei fini settimana, e questo determina condizioni di potenziale rischio. Ci ritroviamo con la persona con lo spritz in mano che magari gira per la piazza. E questo evidentemente favorisce possibili rischi di propagazione del contagio. Il sindaco conferma il potenziamento dei controlli, indicando anche un altro fronte. Controlli antiprostituzione, quindi sul tema delle misure Covid, perché purtroppo accade che le prostitute che esercitano e i clienti non utilizzino la mascherina. Quindi diventa anche questo veicolo per il virus.